ciao ragazzi siamo dentro la cupola della terrazza mascagni molto bella qui siamo venite venite con me siamo alla terrazza mascagni di livorno boia dea ovviamente di nico livorno 1 mi raccomando spero vi piaccia questo video poi c'è l'hotel palazzo che per entrare in questo hotel si spende una marea di soldi però non c'è dove mangiate e bevete e state bene fidate comunque questo è un hotel stupendo io vi consiglio di venire boia dea alla terrazza mascagni si potete fare anche la foto con nico di volno 1 ci vedo ed è boia dea comunque mi raccomando spero che questo video vi piace come vi ho detto porterò tantissimi contenuti nel mio canale sempre all'infinito mi raccomando lasciate un like e condividete questo video e spero che vi piace ciao a tutti da nico di volno grazie a tutti